Salve a tutti, sono Cristian e sono uno studente del corso di laurea di economia bancaria e finanziaria all'Università degli Studi del Sannio. Mi ha sempre appassionato studiare e approfondire quelli che sono il settore credizio e il settore bancario e questa università mi ha dato sin da subito la possibilità per farlo. Spero tutti che la tecnologia influenza quotidianamente le nostre vite, basti pensare che tramite applicazioni operiamo facendo bonifici, pagamenti ma anche acquistando azioni e anche le banche e gli intermediari finanziari sono stati notevolmente influenzati da questo sviluppo digitale. Quindi il fintech è uno degli argomenti cardine del nostro corso di laurea, come lo sono anche la storia economica, la politica economica, la finanza aziendale e il comportamento degli intermediari finanziari. Tutti insegnamenti che serviranno da focus per poter creare in futuro quelli che saranno gli esperti nel campo bancario e nel campo credizio. Grazie. Grazie.